Adesso abbiamo un momento magico, ma non vi voglio svelare il nome, anche se prima ve l'ho anticipato. Guardiamo insieme chi è questa strega, streghina, come ama definirsi. Vediamo. Ah Andrea, mi spiace, ma ci sono i vetri del salone che fanno proprio pietà. Va bene, oggi li pulisco. Andiamo Mariolino. Dai su. E non tornarmi a casa conciato come ieri sera, eh. Io non posso pensare solo a te, hai capito? Cerca di giocare senza sporcarti. Ciao. Ciao. Ciao Franco. Scusa, ti puoi ricordare la morbidente? Sì, ciao. Buon lavoro. Mariolino, mi aspetti giù che arrivo subito? Sì. Cosa stai facendo? Non ti sembra un po' esagerato così? Ebbè, le cose si fanno bene o non si fanno. Io pulisco anche dove non si vede. Nicoletta lì sotto non c'era mai passata, è uno schifo. Beh, sai Andrea, in fondo mi sento un po' in imbarazzo per te. Ho capito. Un ingegnere che fa il bucato e che aspira la polvere è ridicolo. È questo che volevi dire? No. È che mi sembra incredibile che al giorno d'oggi un ingegnere non trovi un posto da ingegnere. Ma dai, lo sai anche tu che ho bussato alle porte di Bezzitalia e che nessuno risponde. Beh, però mi dispiace. Eh, a me no. Le Ceretti ero uno schiavo, qui è tutta roba mia. Mi sento il re della casa. Signori, Eleonora Giorgi. Scusate, ma io vorrei un applauso da questo studio. Grazie Eleonora per essere qui. Buongiorno a tutti. Come stai? Eh, sto, sto bene. Sto sempre lottando per credere sempre al meglio. Ah, che bello. Positività. Positività e cerco di essere ottimista. Senti, ma stamattina ci siamo svegliati con questa bellissima intervista su di te. Stupendo. Il cinema mi snobba, ma io non mi arrendo. Beh, insomma, poi fatta da Gloria Satta, che per me è una grande firma, ma soprattutto è un'amica perché abbiamo cominciato insieme. Quindi ti conosce bene. Ma noi ci conosciamo dall'età di 19 anni, mi portò dalla cardinale con la sua piccola 500 e il cane di Claudia mi morse. Quindi iniziò così con Gloria Satta. Un'amicizia. Gloria, che saluto e ringrazio. Che salutiamo. Un onore e grazie, sai, è il cinquantennale della mia carriera. Cinquantennale della carriera, hai ricevuto un premio? Mi stanno dando dei premi alla carriera. Che bello, direi meritati. È un grande onore. Hai iniziato prestissimo, 50 anni sono tanti, pesano. Guarda, Serena, io ho iniziato molto di più che prestissimo perché avevo 19 anni e allora si diventava maggiorenni a 21 e io non ero un'aspirante attrice, è questa la follia. E tu non volevi fare quel mistero? Ma non avevo mai pensato, anche perché allora si doveva essere di una bellezza inarrivabile e io ero piagata da una sorella. E invece lei no, era bruttina. No, ragazzi, io avevo gli occhiali. Mia sorella era talmente bella che non potevo in maniera. Quindi, secondo me, da una mia foto assurda di pubblicità, cavolate, io ero una studentessa dovevo entrare all'Istituto del Restauro, mi chiamarono, secondo me accettai il film per sbatterlo in faccia a mia sorella. Cioè, la mia vita è cambiata per questa malità. Ma perché questa sorella, scusami? Perché era di una bellezza. Che rapporto avevi e hai? Adesso molto poco perché lei è una pazza, vive con i cani. Ma mia sorella, che ha un anno più di Ornella Muti, loro due erano le due più carine ragazze di Roma, sconosciuta Ornella Muti. Lo so perché fecero delle vacanze sulla neve insieme, le scuole diverse. E io andai a trovare mia sorella e c'era quest'altra bambina pazzesca, era Ornella Muti. Era Ornella Muti. Loro erano le due più carine di Roma. Quindi io neanche mi immagino... E invece c'è lei, era quella bruttina. Lei era quella bruttina. La vanità, mi scelgono per un film. Una stupida, la mia vita è cambiata. Sono grata alla mia vita per tutto quello che mi ha dato. Però resta il fatto che non avrei mai scelto. Non l'avresti scelto? Mai, mai. Piuttosto avrei scelto la cantante. Io sono una posta sessantottina. Jimi Hendrix, Janice Joplin. Una rock star. Il mito era il rock per noi ragazzini. Era antica la Lore nel cinema, le cose. Già bypassato, no? Tu sei di una modernità da sempre, Eleonora. Io non lo so, Serena. Io penso di avere un aspetto... Nel pensiero, perché sei una donna libera. Ma guarda, io non so neanche se questo. Secondo me si è dominati. La vita non sceglie mai a caso. Gli artisti restano bambini. C'è una parte di me che si riattiva continuamente. Perché io non ho messo in ordine la mia vita. Uscirò dalla vita col disordine. Perché ho sperimentato. Ma quindi tanti anni, non so, di analisi in cui uno si mette in discussione, cerca di risolvere, di mettere in ordine, no? Questo scrigno meraviglioso. Certo. Quando parlo di disordine parlo di non aver costituito delle solidità, tipo un matrimonio di cemento armato, un compagno di piombo e di acciaio, una carriera certa, essendomi avventurata nella cosa più legata al nulla che si possa immaginare. E questo fa di me un'eterna adolescente, perché ricomincio sempre. Però, siccome la vita è anche, oltre che talmente corta, talvolta è anche un esperimento. E io non ho mai trovato davvero la cosa a cui credere fino in fondo, se non fare i figli. Quindi è un miracolo che non ne abbia fatti i cinque sei. E le tue fragilità? Tutte. Sono un ammasso di fragilità. Io sono una persona così doppia. Al mondo per dovere mostro il sorriso e l'ottimismo, che è anche irrazionale. Nasce proprio da un ragionamento. Ma la mia anima è lunare, leopardiana, posso avere degli abissi, abissi proprio. Come tutti gli ottimisti sono con dei picchi. Però, ecco, quindi, una carriera che ancora per me è in divenire. Vinco i premi alla carriera per questi 50 anni. È una carriera che è stata anche bruscamente interrotta, non per mia volontà. ma io non smetto di essere ferma e convinta che io ridarò al pubblico quello che mi chiedono. Perché tu sei amata da tutti. Ma quindi partiresti da questo titolo, il cinema mi snobba ma io non mi arrendo. Assolutamente. Partiamo proprio da questo. Partiamo da questo. Eleonora vuole continuare a fare il lavoro che ha sempre fatto di attrice straordinaria. Non solo, aspetta. Ma anche cambiando ruoli, cercando nuove sfide. Attenzione, no. Cambiare ruoli vuol dire che devi accettare la tua età. E per stereotipo la mia età diventi una nonna a due pose. No! Io voglio difendere le sessantenni, perché la vita si è allungata di 30 anni. Tutte le sessantenni, come me, attive nella società, affettivamente vive. Non solo delle nonne sottopasticche, cioè tre pose di una poveretta. No, protagoniste. Perché tu hai scritto. Massimo Ghini, Abba Tantuono, Bentivoglio, fanno i protagonisti. Mi unisco. Mi dicono, non so cosa farti fare. Bene, dico, prendi un ruolo di Massimo Ghini e fallo fare a me. Punto. È così che ci dobbiamo muovere. È giusto e tu anche lo dici in questo articolo. Perché in televisione c'è il rispetto e abbiamo grandiose Mara, Milli, tutte mie coetanee. In cinema, invece, o caratteriste o non c'è. Eh no. Perché si è dato troppo spazio agli uomini negli anni. Non è solo questo, è perché non è ancora attivata la cosa del tutto. Io sono entrata in un cinema dove la donna era solo oggetto. Oggetto del desiderio. Doveva essere super bella, era un oggetto. La compagna di, la moglie di, l'amante di. La società si è rivoluzionata. Le donne sono diventate i protagonisti della loro vita. L'unico mondo che non le racconta è il cinema. Che cosa vorresti proporre a un regista che in questo momento ti sta ascoltando? Perché tu hai scritto un testo con un personaggio importante. Io ho scritto un copione. Non vorrei parlarne troppo perché fin tanto che non viene definito del tutto. Nasce da due esigenze. Una, quella di ampliare la possibilità di affettività di una sessantenne. Due, una provocazione alla Pretty Woman. Perché io voglio sognare. Per cui ho scritto una storia d'amore che è un risarcimento per tutte le sessantenni. Un amore inevitabile, involontario, ma inevitabile. Fra un 25enne e una sessantenne ai tempi del lockdown. Che si trovano chiusi in un'azienda agricola. Ci piace un sacco. Sono sicura che anche le signore che stanno a casa... Brava. Ricordiamoci che la vituperata over 60 in Italia regge la cultura. Ovvero il balletto, l'opera, il teatro, i libri, i testi, i saggi, il cinema di qualità. Tutto fondato su questo milione e mezzo di over 60 che siamo noi donne. Brava Eleonora. Mi unisco a questo messaggio. Grazie. A te manca un sacco di tempo, però arriva a tutte, perciò dovete essere brave ora, le quarantenni, le trentenni, ad arginare questa... Perché arriva un momento che loro addirittura, senza voler essere banali, ma si rigenerano con una compagna giovane, questi trentenni che ci vanno e fanno i bambini e... C'è un riferimento di un'attrice internazionale che dice, non so, Meryl Streep? Eh beh, ovvio, ma come puoi, come dicono le sue colleghe, purtroppo c'è Meryl Streep, quindi non si può mai dire niente. Mi piaceva infinitamente Kate Winslet, che era quella di Titanic. Perché ti piaceva? Perché a me poi, quando c'è questa esagerata, come dire, democrazia, per cui non importa se diventi così e non importa se hai due braccioni... E no, invece importa. Io ho un senso estetico e... Quindi mi dà fastidio quando poi si deve smarrire la grazia a favore di un qualcosa. Quindi Kate Winslet, negli ultimi ruoli, l'ho vista troppo corpulenta, body shaming, ammazzatemi, però... Ma diciamo che bisogna accettarsi, per quello che sia, ci sono momenti anche difficili in cui uno può trasformarsi fisicamente. Io però ti devo dire... Però in generale, io trovo che sia rispettoso, come dici, no, che un'attrice in qualche modo rimanga... Certo! Cioè, si prenda cura di sé, del proprio corpo, della propria immagine, della propria bravura, quindi studiando... Ognuno di noi rappresenta qualcuno. Quindi è giusto che qualsiasi caratteristica sia rappresentata. Ma in nome di questo non è che deve scomparire la grazia e la bellezza. Oggi sembra vietato. Non c'è più una persona che sia bella. Poi quello che chiudono dalla porta rientra dalla finestra dei social, tutti quei filtri stupendi, le ragazzine. Senti, a proposito di bellezza, della tua bellezza, interiore ed esteriore, tu sei la nonna più bella d'Italia? Beh, io sono molto... eh, ma mi sa che ho una competitor, Michelle. Che salutiamo, Michelle Lonsi. Michelle che la salutiamo, sai che l'ho sempre considerata, parlo di 30 anni fa, la mia erede, per verve, per disciplina. Sì, è bravissima. È una svizzera tedesca, io sono mezzo inglese, mezzo inglese. E perciò la salutiamo. E vi assomigliate anche come ironia. Esatto, esatto, esatto. E sì, anche lei è una nonna. Però io sono più grande di lei e quindi secondo me tutte le nonne d'Italia sentono più me nonna. Michelle è davvero troppo giovane per essere una nonna. Devi aspettare ancora Michelle per chiamare nonna. Sono rimasta stupita, perché poi oggi Gloria scrive 3 milioni di follower. No, ma avendo un sito di Instagram così tranquillo, dove di colpo io col mio nipotino faccio 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. 3 milioni e mezzo. Ma perché? Che cosa racconti? Nonna d'Italia, niente. Che cosa racconti? No, niente. La normalità, una nonna che sta con il nipote se lo gode. Ci sono dei reel che abbiamo fatto, anche spiritosi. Io che arrivo a casa di Paolo, lui mi vuole abbracciare, io corro dal nipotino. E vado da lui e ho la coincidenza che gli cade il pane, quindi glielo do e lui mi sorride. Sembra una regia di Sorrentino, invece è stato un puro caso. Ecco, no, ma questo vuole... E poi non sai come mi scrivono rispetto alla nonna. Senti, la magia dell'amore? Questa è la magia dell'amore. L'amore tra un nipote e una nonna. L'amore poi che si declina in tutte le forme, anche secondo un po' gli ormoni. Anche questo andrebbe detto, anche se è un po' triste dire che l'amore può essere anche regolato da questo. L'amore fra una nonna e un nipotino... Ma tu sei innamorata adesso? Assolutamente non sono innamorata. Troverei molto difficile essere innamorata, perché avendo amato forse otto uomini in vita mia, eccezionali, e perdonatemi, però è stato così per me, sono molto selettiva. Allora, i coetanei, a parte che sono interessati alle trentenni, a me non mi piacciono. Ho scritto quel film perché a me mi piacciono i ventenni, ma ovviamente sono sana di mente. Mi dispiace, voi che ci state ascoltando, trentenni, niente. Contrariamente ai maschi, io sono sana di mente. Quindi l'identikit del tuo uomo ideale, facciamo. No, beh, l'Efebo di Antikit era la statua greca, cioè ventenni, perché sono immaturi come me. Cioè, io ho tutto, sono anche una nonna, ma sono pronta a ricominciare. E chi ha invece le nozze di cemento, no. Io ho la solitudine, sto sempre senza rete, però almeno, ma sto scherzando del ventenne, perché io, come molte, tutte, quasi le donne, siamo sane di mente. Invece i maschi che sono pazzi ci si mettono con la ventenne. Ma tu ti immagini io un ventenne, ma, cioè, quindi è puramente ideale il discorso. Ma a parte l'età, come deve essere, esteticamente? Esteticamente? Esteticamente, sì. No, appunto, ventenni perché sono commoventi la bellezza dei ragazzi a vent'anni, commovente. Quindi, no, vabbè, il mio uomo ideale è troppo tardi per stare a parlare di queste cose. No, non ne parliamo, però deve accadere, può accadere, da un momento all'altro. No, io ti devo dire la verità, a me mi farebbe molta paura. Invece mi piacerebbe molto pensare a una terza età, che forse è ancora in divenire, condividendo la vita in una specie di comune, due, tre persone, un grande appartamento. Mi divertirebbe andare a fare la comune del 68 adesso. La comune del 68? Sì. Io vorrei adesso dalla comune del 68 farvi vedere un pezzetto di un grande tuo amore musicale, che è stato Lucio Dalla. Vabbè. Vediamolo, ce l'abbiamo, vero? Manca Dalla, ci manca Lucio Dalla. Ci sono cose, in questo studio, in pista più vicenda. Sì. 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 Stavamo complimentando. Eleonora ha scelto il tema... Eleonora ha scelto il tema... Eleonora, il momento del marzulliere. Si è pronta? Pronta. Ha scelto il tema sapere. L'immaginazione è più importante della conoscenza, Eleonora? Allora, l'immaginazione stimola un'esigenza di conoscenza, ovvero puoi essere stimolato dai dati di fatto e andare ad approfondire, ma se riesci a immaginare qualcosa e sei curioso, abbiamo la fortuna di quell'apparecchio magico dove c'è tutto, controlli tutto. A proposito di sapere, le grandi idee nascono dal cuore o dal cervello? Dal cervello. E il cervello ha sesso? Le grandi idee di cui io non sono portatrice, attenzione, parliamo delle menti. E il cervello ha sesso o non ha sesso? Il cervello, secondo me, ha sesso perché in qualche modo è influenzato anche dagli ormoni. Ma perché hai scelto questa domanda per Eleonora Giorgi? Perché io, da parte del marzulliere, l'intelligenza, Eleonora, è una chiave della felicità? Allora, la felicità, secondo me, può derivare solo da momenti di abbandono, ovvero quando non abbiamo il cervello. Niente più bello, anche solo di due dita di vino, se ti allontanano da te stesso per un attimo. E per chiudere, si giudicano le persone per le loro doti morali o per quelle intellettuali? Oddio, si giudicano le persone per le... Eh beh, chiaramente è un insieme di queste due cose. Io pensavo invece le persone piacciono di più, che secondo me le persone piacciono di più se hanno molti soldi. La conoscenza, e chiudiamo davvero perché arriva la pubblicità, la conoscenza senza saggezza, è pericolosa? Certo, certo che sì. Ci chiudono, ci chiudono, quindi dobbiamo salutare. Pubblicità! Ma torniamo subitissimo! Non andate via! Non andate via! Grazie Eleonora Giorgi, grazie, 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 grazie. Grazie Gigi! Grazie! Grazie!